San Buceto per riscattare la secca sconfitta dello scorso turno, Emilianico per continuare il proprio cammino salvezza. Sono questi gli obiettivi delle due contendenti nella sfida odierna alla cittadella dello sport. I viola di casa si presentano con Nardone e Selva Allegra a supporto di bomber Lalli sul fronte avanzato, mentre gli ospiti in giallo devono rinunciare a Battista e schierano in attacco il tandem di Muzio Polisena. È il San Buceto a provarci per primo, ma lo stacco di testa di D'Amico non inquarra la porta ospite. Poco dopo sono ancora i parroni di casa a farsi vedere lì davanti. Prima Camperchioli non riesce a sbloccare il punteggio, poi stessa sorte tocca a Selva Allegra che trova la risposta dell'attento Ferrara. Il Emilianico si fa vivo in area avversaria Cinquino, trova però la strada chiusa prima del pallone recuperato e trasformato in oro da Mennillo che al venticinquesimo porta in vantaggio il Emilianico. Il San Buceto cerca di reagire senza però riuscire a produrre occasioni all'immediato. Ai viola ne basta però una al quarantesimo per tornare in parità con un sinistro chirurgico di Nardone per il momentaneo 1-1. In avvio del secondo tempo arrivano i primi due cambi del match. Prima Beniamino prende il posto di D'Angelo e poi Castro Paolo rileva Gentile nel San Buceto che prende in mano il pallino del gioco senza però trovare la stoccata vincente. Mister Delzotti allora le prova tutte e ricorre al doppio cambio richiamando Legnini e Camperchioli per inserire Criscolo e Polletta con quest'ultimo che impegna l'estremo difensore ospite fuori causa poi sulla stoccata di Criscolo che al settantesimo porta in vantaggio il San Buceto. Dall'altra parte Orta sostituisce l'infortunato Mennillo e proprio l'attaccante da poco entrato in campo dà l'illusione del pari al Emilianico che negli ultimi minuti si sbilancia in avanti prestando il fianco alle ripartenze di un San Buceto capace di calare il Tris al novantatreesimo per il 3-1 finale seguito dal triplice fischio del signor Di Paolo Di Pescara. Per la vice capolista tre punti di indubbio valore sotto l'albero di Natale mentre il Emilianico resta in piena zona play-out. Nel dopogara voce all'attaccante del San Buceto Alberto Nardone e all'allenatore ospite Maurizio Tacchi. Innanzitutto sono felicissimo per la vittoria, ovviamente il mio gol l'1-1 era importante per la squadra ma la cosa più importante era vincerla. Non vi siete scomposti dopo lo svantaggio iniziale, questo è anche sintomo di consapevolezza dei propri mezzi? Sì, la cosa più importante è questa perché la caratteristica è il gioco, dobbiamo continuare a giocare l'abbiamo fatto, l'abbiamo pareggiato e grazie a Dio l'abbiamo vinta. Mister Tacchi si era messa bene per il Emilianico, passato in vantaggio, poi cosa è mancato alla sua squadra? E' che non l'abbiamo portata in porto, si mette bene l'inizio ma quello che importa è la fine però sono contento perché come avevo già detto alla vigilia la prestazione ci sarebbe stata e c'è stata quindi a me non posso rimproverare assolutamente niente tenendo presente comunque che abbiamo incontrato la seconda della classe e non sta lì sopra per caso e l'abbiamo tenuta in biligo fino al 95esimo.